Ciao, benvenuti a Clipnos, io sono Giulia e oggi parleremo di filosofia, in particolare di Kant e della sua critica della ragione pratica. Vi ricordo che se preferite leggere gli appunti di questa lezione, li trovate su clipnos.it La critica della ragione pratica è il secondo scritto del periodo critico di Kant, pubblicato nel 1788, sette anni dopo la critica della ragione pura. Se con la sua prima critica Kant andava ad analizzare le capacità con i citivi dell'uomo, il tema della critica della ragione pratica è l'etica e in particolare il tentativo di comprendere in cosa questa consista e quali siano i suoi fondamenti. Cosa deve fare l'uomo per agire eticamente? La ragione pratica è quindi fondamentalmente quella parte di ragione che guida le nostre in particolare Kant distingue due tipi di ragione pratica. La ragione pura pratica, che è una ragione a priori innata che opera nell'uomo a prescindere dei dati empirici, e la ragione empirica pratica, che come dice il nome si modella sull'esperienza. Ovviamente la moralità vera e propria si configura nella ragione pura pratica. Quindi l'oggetto della critica sarà la ragione empirica pratica, in quanto dovremo capire in quali situazioni questa si allinea con la pura e diventa quindi morale, rendendo a sua volta quindi il nostro agire moralmente corretto. Kant parte quindi dal presupposto che esista una legge morale a priori, assoluta e universalmente valida. Non si spinge neanche a dimostrare l'esistenza, perché ritiene assurda l'ipotesi che l'uomo possa agire moralmente solo seguendo i suoi istinti. Si sofferma invece su due aspetti. Il primo è la libertà. La scelta morale non può essere una scelta condizionata, deve essere libera e autonoma, cioè fine a se stessa. Il secondo è la necessità ed universalità della legge morale. Questa deve essere valida per tutti, in qualsiasi condizione. In particolare, il primo punto è molto importante. La morale kantiana è strettamente legata al concetto di libertà. Ma in Kant, libertà non significa tanto libero arbitrio, possibilità di scegliere, quanto autonomia della scelta. Che deve essere compiuta non per soddisfare delle necessità esterne, ma per seguire una legge che noi dettiamo a noi stessi. È un'autonomia proprio dal punto di vista strettamente etimologico. Autonomia, infatti, deriva dal greco autos, quindi se stesso, e nomos, quindi legge. Dunque la scelta è autonoma quando segue una legge dettata dallo stesso ente che compie la scelta. Nel momento in cui la legge morale è a priori, quindi è già presente nell'uomo, chiaramente quando seguiamo la vera e propria legge morale compiamo una scelta autonoma. Ma ad esempio, se io agisco per ricercare il piacere, la mia scelta non è una scelta libera, perché non è una scelta autonoma. Io agisco per ricercare il piacere e quindi non per una legge a me interna, ma per soddisfare i miei desideri che in questo caso mi spingono a fare quella scelta. Non sono io a sceglierlo, ma sto sottostando a un qualcos'altro, che è sempre interno a me, ma non sono io. Quindi l'agire morale è un'eterna lotta tra la ragione e l'impulso, perché come abbiamo visto nella distinzione tra ragion pratica pura ed empirica, la legge morale non sempre coincide con la volontà. I percetti che regolano la volontà individuale sono di due tipi, le massime e gli imperativi. Una massima è una regola che il soggetto stesso decide di osservare, è quindi una regola dettata dal soggetto stesso e che è valida solo per quel soggetto. Ad esempio, io posso decidere di dire devo sempre andare a dormire alle 22, ma non è una legge universale, è valida solo per me. Un imperativo invece è una regola non soggettiva ma oggettiva, quindi valida per tutti. A sua volta un imperativo può essere ipotetico oppure categorico. Un imperativo è ipotetico quando è legato a un obiettivo. Sono quegli imperativi che si presentano con una formula del tipo se, allora. Ad esempio, se non voglio andare in prigione non devo rubare. Quindi non evito di rubare perché non devo farlo, ma solo perché non voglio andare in prigione. E in questo caso il mio non rubare non è morale, è legale ma non morale. Quindi qua vediamo una distinzione tra legalità e moralità. La mia azione è legale perché non sto compiendo un'azione illegale, ma non è morale perché non lo sto facendo perché è giusto, bensì perché voglio evitare di fare qualcosa di illegale con le sue conseguenze. La legge morale ovviamente non può essere fatta né da massime né da imperativi ipotetici. Abbiamo quindi gli imperativi categorici. Un imperativo è categorico quando è autonomo, universalmente valido ed esprime una volontà pura. L'imperativo categorico detta il dovere in modo incondizionato, a prescindere da ciò che c'è nel mondo esterno. È un dovere fino a se stesso, disinteressato. In particolare l'imperativo categorico kantiano, quindi quello che lui formula, non si focalizza tanto sui singoli atti che la ragione dovrebbe compiere, bensì del suo atteggiamento generale. Kant fornisce nel corso del tempo tre formulazioni diverse dell'imperativo categorico per eccellenza. La prima formula è agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di una legislazione universale. Che vuol dire fondamentalmente che ognuno di noi dovrebbe agire come se le prescrizioni che ci autoimponiamo potessero essere seguite da tutti. Ovviamente se ognuno prendesse come massima devo uccidere la gente, nel giro di un mese la razza umana sarebbe istinta. Le altre due formulazioni dell'imperativo categorico non appaiono nella critica della ragione pratica, ma in un altro testo, la fondazione della metafisica dei costumi. Un altro dei vari testi sulla morale che Kant scrive. La seconda formula recita. Agisci in modo di trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Quindi fondamentalmente bisogna agire per il bene comune. Trattare l'altro come fine implica l'universalità dell'azione. Mentre la terza formulazione dell'imperativo categorico afferma. La volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere considerata autolegislatrice e solo a questo patto sottosta la legge. Questa forse è un po' meno chiara. In questa terza formula vediamo come l'individuo non si limita a sottostare ad una legge, ma è allo stesso tempo suddito e legislatore. In quanto la legge morale deriva dalla ragione pura ed è quindi interna all'uomo. Quindi se la legge deriva da qualcosa di interno all'uomo, l'uomo è legislatore. Ma questo non è l'unico cambio di paradigma che Kant attua. Infatti, se prima si parlava di un soggetto che compie un'azione morale quando quest'azione sottostava ad una regola, con Kant, dato che le regole sono innate nel soggetto, è in qualche modo il soggetto a rendere morale un'azione. Quindi, come nella ragione pura, anche nella ragione pratica abbiamo una rivoluzione copernicana kantiana, in questo caso morale. Bene, questa era la critica della ragione pratica di Kant. Spero che questo video possa esservi stato utile. Continuate a seguirci su tutti i nostri social, in particolare su TikTok e su Instagram, e ricordatevi che su clipnons.it trovate gli appunti di questa lezione e anche di tante altre. Ciao! Grazie! 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 Grazie!